Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove per lavori sono possibili disagi tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est in entrambe le direzioni. I cantieri sono attivi negli orari 8.17.22.6. Per questi lavori, entrata chiusa a Montelupo Fiorentino in direzione Livorno. In A1, in direzione Bologna, chiusura ai mezzi pesanti di massa superiore a 7 tonnellate e mezzo del tratto tra il bidio con la variante di valico Baccheraia e Aglio fino al 30 aprile. Infine, per quanto riguarda la viabilità cittadina, Firenze, via di Santa Marta, resterà chiusa fino al 16 maggio da via Ernesto Rossi a via della Pietra. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie per la visione!